I tifosi sono una parte fondamentale del nostro spettacolo e anche della nostra energia, perché tante volte il pubblico carica i giocatori o comunque dà fastidio agli avversari e quindi fa appendere l'ago della bilancia dalla parte della squadra casalinga. E quindi noi abbiamo bisogno dei nostri tifosi ancora di più oggi, dopo un anno e mezzo, perché forse un po' ci siamo anche disabituati al rumore del palazzo e all'energia che ci trasmettono i ragazzi dalla curva, dalla tribuna, da ovunque nel palazzo. E quindi il mio è un appello a tutti i tifosi della Scaligera affinché si ritorni a vedere il palazzo pieno. Io per quanto ancora, come ha detto Giorgio, abbiamo solo il 60% rispetto a altre realtà. Però questo è quanto. I tifosi sono fondamentali per noi, specialmente anche quest'anno, che la squadra è stata ringiovanita, quindi i ragazzi più giovani possono trarre ancora più energia da questa presenza. Grazie a tutti.